25.853 nuovi contagi con oltre 230.000 tamponi effettuati. Ancora segnali di ottimismo dal bollettino giornaliero con un tasso di positività che si attesta all'11,2%. Resta purtroppo alto il numero delle vittime, 722. Intanto questa sera vertice per ultimare il prossimo DPCM che detterà le regole per Natale. Uno dei punti da affrontare è sicuramente quello relativo al ritorno a scuola dei nostri ragazzi. Il Premier Conte della Spagna dice che la scuola va riaperta il più presto possibile. Stessa linea dal Ministro Azzolina che oggi si è confrontata con i sindaci delle 14 città metropolitane visto che alcune regioni, Campania, Puglia e Calabria, sono fortemente contrarie a riaprire i cancelli subito dopo il Ponte dell'Immacolata. Trasporti, flussi degli spostamenti e tracciamento dei contagi sono gli ostacoli principali. Il nuovo decreto inoltre, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe mantenere il divietro fra le regioni a rischio seguendo però il criterio della residenza. Resta da stabilire ad esempio se sarà possibile raggiungere le seconde case. Il Ministro Speranza, sempre oggi, ha infine annunciato che il 2 dicembre presenterà in Parlamento il piano vaccini affermando che comunque gli acquisti saranno centralizzati da parte dello Stato.